Ciao Anima Meravigliosa, come stai? Oggi faremo una lettura angelica valida per una settimana dal momento in cui la stai guardando. Utilizzeremo tre mazzi di carte, ma prima di iniziare faremo una piccola preghiera di protezione per connetterci con le frequenze dell'Arcangelo Michele per chiedere guida, assistenza e protezione. Iniziamo subito. Invoco la Divina Presenza di Dio Dea, Onnipotente, Padre e Madre, i miei angeli custodi, il mio Sé superiore, gli angeli custodi, il Sé superiore di tutte le anime che con tanto amore mi stanno ascoltando. Invoco te, Arcangelo Michele, coscienza amicaelica e con amore vero, puro e sincero vi chiedo di tagliare tutte le corde egoiche di paura tra me e tutte le persone coinvolte che riguardano questa vita sulla Terra, le altre vite, in tutti i sistemi di realtà, in tutte le dimensioni e in tutte le direzioni del tempo-spazio. Arcangelo Michele, chiedo massima purificazione, protezione, liberazione affinché durante questa lettura possano arrivare i messaggi più puri, più veri, per il massimo bene di tutte le persone coinvolte, per il massimo bene supremo. Supremo. Grazie caro Dio, chiedo protezione fisica, psichica in tutti i livelli, per me e per tutti. Grazie, 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 è fatto, è fatto, è fatto e così è, così sia. Ora, per sempre e per l'eternità. Ok, questa è una lettura, vediamo che cosa ci vogliono dire gli angeli e l'Arcangelo Michele. Ok, credi e fidati, concentrati su un'alimentazione, diciamo, più sana, resta focalizzato, focalizzata sui tuoi obiettivi. Vediamo un po'. Praticamente sto utilizzando tre mazzi e sto scegliendo tre carte da ogni singolo mazzo, va bene? Prima carta, ok, una vita sentimentale, sta per arrivare un nuovo amore, un amore che si sta consolidando, poi andiamo a vedere nello specifico. Eccoci qui, seconda carta, santuario. Crescita. Ora vediamo le carte delle fatte, queste sono le carte della guarigione con le fatte, io le trovo molto, molto potenti, queste carte sono veramente ben fatte. Hanno messaggi, ecco, una vacanza. Guarire significa ritornare ad uno stato di equilibrio, di pace, di armonia, quindi le fatte sono degli ottimi aiutanti in questo senso, guarda dentro di te. La carta centrale, in tutti e tre i mazzi, una riguarda l'alimentazione, una riguarda creare un santuario sacro, la terza guarda dentro di te, quindi ha a che vedere con la meditazione, il ritiro spirituale, e vediamo che questa carta conferma una pausa di silenzio. Diciamo che questa lettura ha a che vedere con il ritornare al centro, ritornare dentro, ascoltare il proprio sacro cuore, ascoltare la guida divina, va bene, assolutamente. Rimani focalizzato sui tuoi obiettivi, qualunque essi siano, che siano obiettivi di amore, che siano obiettivi lavorativi, magari ti stai mettendo a dieta e stai cercando di perdere peso o di aumentare di massa muscolare, insomma, qualunque sia il tuo obiettivo, l'invito è anche quello di fare un'alimentazione equilibrata. Quindi questi obiettivi, qualunque essi siano, hanno a che vedere proprio con il tuo benessere psicofisico, il tuo riequilibrio, quindi rimani focalizzato, rimani focalizzata, perché comunque tutto sta andando per il meglio, ci sarà un esito positivo. Devi credere in te stesso, in te stessa andrà tutto bene, Lascia andare le paure, lascia andare chi ti porta sfiducia, lascia andare pensieri negativi, lascia andare chi ti demotiva o ti butta giù o non ti fa sentire all'altezza. Ecco, queste persone, è meglio allontanarle, perché queste persone creano in te insicurezza, creano in te disagio, e invece devi ritrovare il tuo centro, deve essere un ascolto interiore, deve essere più potente quella vocina che tu senti dentro di te in una maniera inizialmente molto delicata, ma quella voce dovrà diventare un suono potente dentro di te che vibra nella frequenza del tuo scopo divino, della tua anima. E bisogna iniziare ad ascoltare quel filino di voce, perché più lo ascolterà e più diventerà potente. Per molti di voi una vita, un nuovo amore sta arrivando, assolutamente, oppure diciamo il romanticismo sta rientrando nella relazione attuale o la tua relazione attuale sta raggiungendo un nuovo livello, no? Quindi assolutamente tu sei amorevole, amabile, credi in te stesso, credi in te stessa, perché comunque c'è un'energia, insomma la primavera, l'estate, normalmente è un'energia che porta lune nuove, quindi che porta nuovi amori, no? Un nuovo amore nella tua vita sta arrivando, non per tutti voi, ma per molti di voi, per alcuni di voi. veramente questo si sta per manifestare, o si è già manifestato, quindi godi dell'amore che stai ricevendo, goditi questa esperienza, apri il tuo cuore a ricevere l'amore, perché sei meritevole di essere amato, di essere amatta e di amare, di goderti questa relazione meravigliosa, ok? L'invito assolutamente è quello di creare uno spazio sacro, armonico e protetto, magari nella tua stanza da letto, oppure se hai una stanza in più, crea un santuario, un santuario può essere creato con una candela, un incenso, dei cristalli, se amate i cristalli, insomma ognuno poi può mettere una foto di un angelo, dell'arcangelo Michele, ognuno lo crea in base ai propri gusti, al proprio sentire, deve essere uno spazio pulito energeticamente, dove possibilmente solo tu entri in questo spazio, tu o poche persone, cioè magari tu il tuo compagno, la tua compagna, però non deve essere un luogo trafficato, deve essere un luogo sacro, no? Protetto, armonizzato, purificato giornalmente, dove tu magari vai a meditare, a pregare, ti connetti, hai proprio bisogno di connetterti maggiormente col tuo interno, con la tua voce interiore, perché la tua voce interiore ti sta chiamando, ti sta veramente chiamando, hai proprio bisogno di maggiore connessione, e questo porterà nella tua vita crescita spirituale, risposte alle tue domande, aiutarti anche a prendere le decisioni, riguardo anche ai tuoi progetti precedenti, per capire come agire nella direzione dei tuoi obiettivi, dei tuoi sogni, non rinunciare ai tuoi sogni, non mollare proprio adesso, sei a metà strada, vai avanti con tenacia, con forza, con determinazione, perché tu puoi riuscire a realizzare tutto quello che hai nel cuore e nell'anima, va bene? Piccoli passi veramente ti stanno portando in un livello superiore di coscienza, un livello spirituale più elevato, più alto, dice l'Arcangelo Michele. Prossimamente ci sarà una vacanza nel prossimo futuro, hai bisogno di questo, hai bisogno un pochino di resettare, hai bisogno di lasciare andare i pesi, è stato un anno difficile, è stato un anno importante, di grandi cambiamenti, alcune delusioni, alcuni diciamo hai avuto delle sfide abbastanza pesanti, ora hai bisogno un po' di rilassati, magari se vivi vicino alla natura, trascorri queste giornate di vacanze in mezzo alla natura, vai a fare dei picnic, dei ritiri meditativi, oppure vai al mare, prendi il sole, fai delle belle camminate dentro l'acqua, fai delle nuotate, insomma hai proprio bisogno di riconnetterti con la natura, deve essere un viaggio in mezzo alla natura, dice l'Arcangelo Michele, un viaggio che serve non per stressarti ma per rigenerarti, va bene? Poi per carità puoi andare anche a ballare, a teatro, a un concerto, anche questo fa parte della vita e tu hai bisogno anche di ridere, di divertirti e di svagarti, quindi segui il tuo cuore e agisci in quella direzione, va bene? Guarda dentro di te, ok? Guarda dentro di te, anche questa carta ti sta portando verso l'interno, hai alcune domande che stai ponendo all'universo, più che darti delle risposte attraverso questa lettura, l'invito è proprio quello di cercare le risposte dentro di te, quindi più meditazione, più preghiera, più ritiro spirituale, più connessione con la natura, hai proprio bisogno di fare silenzio, ok? Una pausa di silenzio, hai proprio bisogno di ascoltare il tuo cuore, nessuno là fuori, neanche la persona più potente a livello di connessione angelica, può darti le risposte che stai cercando, perché le risposte sono dentro di te, anima infinita, ok? Ora chiediamo all'arcangelo Michele di portarci un messaggio attraverso questo libro, chiedo purificazione, liberazione e guarigione, chiedo veramente di sintonizzarci nella frequenza dell'amore più puro ed elevato, in assoluto, chiedo verità, saggezza, integrità e massima protezione fisica e psichica per tutte le persone coinvolte. Non pretendere. Questo è un messaggio interessante, purtroppo a volte quando abbiamo degli obiettivi importanti tendiamo a cadere nell'ego e pretendiamo che l'universo ci soddisfi sempre, come vogliamo noi, invece magari ci vuole soddisfare, magari ci vuole accontentare, ma magari in un modo diverso, in un modo originale, che non siamo noi a stabilire quali sono i dettagli su come Dio o come l'universo deve operare per realizzare i nostri sogni, ma diciamo dobbiamo anche aprirci a sorprenderci dei miracoli infiniti che possono arrivare nella nostra vita. Quando smetti di pretendere il tuo atteggiamento nei confronti del mondo cambia radicalmente, diviene un essere capace di ringraziare, di attendere, di vedere ciò che generalmente vedono in pochi, meno pretendi e più ricevi. Questo è un messaggio per tutti, Ani Nezinite, quindi lo prendo per buono anche per me, cerchiamo di uscire dall'ego, di uscire da questa voglia di controllare, lasciamo che tutto fluisca liberamente, apriamoci a ricevere, e soprattutto una pausa di silenzio, guarda dentro di te, connettiti col cuore, e vedrai, credi e fidati, perché i tuoi sogni si manifesteranno, c'è anche un grande amore alle porte, una grande crescita spirituale, io credo che questa lettura, per questa settimana, sia molto esaustiva, io vi auguro una settimana splendida, volevo ricordarvi che mi occupo di facilitare le letture angeliche con le carte, o anche come connessione diretta, e mi occupo di insegnare alle persone come connettersi con le nuove frequenze di luce, con gli insegnamenti dell'Arcangelo Michele, la protezione dell'Arcangelo Michele, e insegno anche le connessioni angeliche, ossia ti insegno non solo a leggere le carte, ma anche a facilitare la scrittura ispirata, che si differisce da quella automatica, una scrittura ispirata dal cuore e dall'anima, fino ad arrivare alla vera e propria connessione diretta, questi percorsi si possono fare one to one, oppure in piccoli gruppi, da 10 massimo 15 persone, quindi se sei interessato, se sei interessata, non esitare a contattarmi, io vi saluto, un bacione grande, a presto, ciao!